La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia dell'Entrata Emilia Romagna. Amici ascoltatori della web radio dell'Agenzia dell'Entrata dell'Emilia Romagna, un cordiale saluto da parte di Santromosca ed eccoci giunti alla seconda puntata delle nostre trasmissioni dedicate ad argomenti di natura fiscale e di stretta attualità. Nella precedente puntata abbiamo introdotto la dichiarazione precompilata, ora andiamo ad affrontare quello che troveremo nella dichiarazione precompilata e per farlo abbiamo rinvitato in studio il funzionale della direzione provinciale di Bologna, Francesco Monaco. Ciao Francesco. Ben trovato Sandro. Nella scorsa puntata abbiamo introdotto il tema della dichiarazione precompilata, ora approfondiamo alcuni aspetti sull'accesso diretto tramite il sito internet. Ecco, cosa succede una volta che si è entrati nell'area riservata? Cosa succede? Una volta effettuato il primo accesso, il contribuente si troverà di fronte a un menù di instradamento che lo indirizzerà verso il modello 730 o verso il modello unico persone fisiche. In questa occasione ci concentriamo più che altro sul modello 730 che è il modello che va a interessare la maggior parte dei contribuenti. Qual è la prima cosa che il contribuente dovrà fare? Dovrà verificare la correttezza dei dati indicati. Se non ci dovesse essere bisogno di alcuna correzione o integrazione, si può accettare il modello 730 senza effettuare alcune modifiche e inviarlo. In questo caso l'agenzia delle entrate non farà il controllo documentale delle spese indicate in dichiarazione e non farà i controlli preventivi che sono previsti per imborsi superiori a 4.000 euro. Se invece alcuni dei dati non dovessero risultare corretti, il contribuente potrà, sempre online e sempre nella propria area autenticata, modificare o integrare i dati che sono presenti nella dichiarazione. In questo secondo anno della dichiarazione precompilata, il contribuente cosa troverà nell'area riservata? Dunque, nell'area riservata il contribuente troverà la dichiarazione precompilata dell'anno precedente, se ovviamente l'ha presentata, e un foglio informativo che contiene tutta una serie di dati. Quali sono i dati contenuti nel foglio informativo? Ci sono sicuramente i dati utilizzati per compilare la dichiarazione, ma ci sono anche quelli non utilizzati, così come ci sono i dati delle spese che sono state sostenute per i familiari a carico e quelli delle spese sanitarie. Sarà inoltre disponibile anche quel che tecnicamente noi chiamiamo esito della liquidazione, vale a dire quel calcolo per cui il contribuente, in base alla dichiarazione presentata, ha diritto a un rimborso oppure sa che deve pagare. Questo accade ovviamente se dovesse aver versato meno imposte rispetto a quelle che sono dovute. Certo. Nello specifico, quali sono i dati già presenti nella precompilata? Puoi farci qualche esempio? Santo, la grande novità presente nella dichiarazione 2016 è sicuramente l'inserimento delle spese mediche. Sono infatti presenti nella dichiarazione precompilata tutti quegli acquisti che sono stati effettuati con il ticket, le spese sanitarie relative alle prestazioni che vengono erogate in farmacia, le visite mediche, generiche o specialistiche che siano. Tutti questi dati, se sono stati correttamente inviati dalle strutture sanitarie, sono stati automaticamente inseriti nella dichiarazione precompilata. Se invece alcune di queste spese non dovessero risultare, il contribuente potrà in completa autonomia inserirle all'interno dell'area riservata. Non sono invece, questo dobbiamo ricordarlo, inseriti nella precompilata e dovranno pertanto essere inseriti dal contribuente le spese sostenute per i farmaci da banco. Certo. Quali sono invece gli altri dati che troveremo nella dichiarazione? I dati fondamentali sono quelli riportati all'interno della cosiddetta certificazione unica, l'ex-cud per intenderci. A questi dati si aggiungono quelli relativi agli interessi passivi sui mutui, i dati relativi ai premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e i dati relativi ai contributi previdenziali. Si aggiungono inoltre anche le spese che sono presenti nella dichiarazione dell'anno precedente. Pensiamo per esempio alle spese per la ristrutturazione edilizia o alle spese per il risparmio energetico. In particolare, a proposito di queste due tipologie di spese, ricordiamo che da quest'anno all'interno di quel foglio informativo di cui parlavamo prima, sono presenti anche i dati relativi al 2015, dati che pertanto dovranno essere inseriti dal contribuente in dichiarazione. Ancora, si aggiungono le spese universitarie, sostenute per se stessi o per i familiari a carico, e le spese funebri. Ricordiamo al proposito che ora sono detraibili anche se non c'è un vincolo di parentela con il defunto. Queste ultime due sono entrambe novità della dichiarazione precompilata 2016. Per finire, diamo qualche indicazione sulle modalità alternative al 730 precompilato. Io direi che è importante ricordare sin da subito che il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è certamente obbligato a utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con quelle che sono le modalità ordinarie. Quindi utilizzerà il 730 classico, non quello precompilato, attraverso un professionista abilitato, un CAF o il sostituto d'imposta, sempre che questo presti l'assistenza fiscale. Alternativamente è possibile presentare il modello unico. Bene, per chiudere, a proposito del modello unico di cui parlavi, quali sono le scadenze? La scadenza per la presentazione del modello unico è il 30 settembre 2016. Vorrei segnalare che da quest'anno, come abbiamo già avuto modo di accennare, dal 15 aprile è disponibile online anche il modello unico precompilato, che il contribuente potrà modificare o inviare sempre online a partire dal 2 di maggio e fino al 30 settembre del 2016. Questo ricordiamolo solo se il contribuente non è titolare di partita IVA. Qualora invece il contribuente avesse una partita IVA, potrà semplicemente consultare e scaricare il modello unico, ma non potrà né modificarlo né inviarlo dalla propria piattaforma online. Bene Francesco, siamo giunti alla conclusione di questa seconda puntata delle nostre trasmissioni dedicate a quesiti di natura fiscale e di stretta attualità, nel caso specifico alla dichiarazione precompilata. Oggi abbiamo affrontato cosa troveremo nella dichiarazione precompilata, abbiamo approfondito l'accesso diretto attraverso internet, cosa succede quando un contribuente entra nell'area riservata, gli altri dati che vanno inseriti in dichiarazione. Io ti ringrazio per essere stato molto esaustivo su questo argomento, do appuntamento ai nostri amici ascoltatori a una prossima puntata nella quale approfondiremo ancora di più la dichiarazione precompilata per ciò che riguarda le novità del 7.30 del 2016. Da parte di Sandro Mosca e da parte di Francesco. Grazie Santo, un saluto a tutti. L'appuntamento è alle prossime puntate, grazie per la cortesia e attenzione.